Stop alle mascherine, un modo per aiutare anche il turismo. Stop dunque nei luoghi all'aperto da lunedì 28 giugno in zona bianca. La decisione è stata presa ieri sera dal CTS. Indossarla però in caso di assembramenti all'interno di attività commerciali sui mezzi pubblici. È un modo per riprenderci un altro pezzo della nostra normalità, detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Totti. Intanto un nuovo caso di positività, il coronavirus, oggi nel Tiguglio, dove resta un solo paziente positivo ricoverato da ieri all'ospedale di Lavagna, nel territorio dell'Asdra 4. Le soveglianze attive sono 27, mentre ieri erano 32. Stop alla mascherina nei luoghi all'aperto da lunedì 28 giugno ma in zona bianca. La decisione è stata presa ieri sera dal CTS. Occorrerà però indossarla in caso di assembramenti all'interno di attività commerciali e sui mezzi pubblici. È un modo per riprenderci un altro pezzo della nostra normalità, avendo fiducia anche nei comportamenti degli italiani, che sanno di doverlo indossare in caso di assembramenti, dice il Presidente di Regione Liguria Giovanni Totti. Questo sarà un modo per aiutare anche il turismo e la ripartenza del nostro paese. Gli fa eco anche l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, il quale ritiene inoltre che non abbia più senso allungare lo stato di emergenza in Italia. Infine, il bollettino di oggi afferma che c'è un nuovo caso di positività al coronavirus nel Tiguglio, dove resta un solo paziente positivo ricoverato da ieri all'ospedale di Lavagna, nel territorio dell'Asdra 4. Le soveglianze attive sono 27, mentre ieri erano 32. Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure sono dovuti intervenire a causa di un uomo che disturbava la quiete pubblica. Giunti sul posto, sul lungomare cittadino, i militari sono stati aggrediti a calce e pugni prima di riuscire a bloccare l'uomo. Si tratta di un 32enne di Milano, con pregiudizi di polizia, che si presentava in evidente stato di alterazione. E' stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per le cure del caso, ma anche denunciato per violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Sono oltre 10.000 le lettere di invito alla vaccinazione spedite dalle Asdra Liguri agli esercenti e le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che non risultavano né prenotati né vaccinati. Le emissive spedite dalla nostra Asdra 4 sono per l'esattezza 1.202. Circa la metà dei soggetti interessati ha regolarizzato la propria posizione, ma ci sono anche 47 persone che hanno risposto fornendo una motivazione non valida ai fini dell'esonero e 271 che non hanno proprio risposto. Ora sono in corso di spedizione le seconde lettere raccomandate con fissati dato, orario e luogo di appuntamento. Intanto ieri è partito da Zoali in piazza 27 dicembre il tour itinerante Viaggio di Gulliver tra i comuni dell'Asdra 4 organizzato per accelerare la campagna di vaccinazione anti-coronavirus e per promuovere la prevenzione alla salute. Le vaccinazioni vengono effettuate con Pfizer e Moderna. Gulliver arriverà il 28 giugno a San Colombano-Certenoli. A partire dalle 9 l'ambulatorio mobile sarà in piazza Colombo a Calvari. Tutti i residenti del paese della Fontana Buona possono aderire alla giornata di vaccinazione anti-covid prenotandosi entro mezzogiorno e mezzo di venerdì. Per prenotarsi si deve telefonare allo 0185 35 8060 dalle 8.30 a mezzogiorno e mezzo. Il vaccino somministrato sarà moderna e la seconda dose probabilmente sarà poi somministrata il 9 agosto sempre a Calvari. Grazie ad una ruspa e ad una gru il tir rimasto incastrato in via Garbuggia-Levi è stato liberato. Ieri mattina il rimalchi è stato svuotato del carico poi in serata. Lo stesso rimalchi è stato sollevato per permettere all'intero mezzo di transitare la curva che gli impediva di procedere. L'autotrasportatore Marcel Paraito di Nazionalità Spagnola ha potuto lasciare Levi e proseguire il proprio viaggio. Partito da Prato e diretto verso la Francia il tir doveva uscire al casello autostradale di Chiavari per la chiusura notturna del tratto fino a Lavagna. Un errore del navigatore e la distrazione ha portato l'uomo a imboccare la strada sbagliata che collega Sant'Erenziano alla zona della palestra di Levi. Oggi, martedì 22 giugno, a Palazzo Tursi, come di consueto, si è svolto il Consiglio Comunale. Nella Sala Rossa tanti sono stati gli argomenti trattati. Noi ci siamo focalizzati su un tema di pulizia e decoro di uno dei tanti posti più suggestivi e caratteristici della nostra Liguria. Con un'interpellanza, la capogruppo della Lega, Lorella Fontana, si è occupata della passeggiata di Corsitalia, che è o dovrebbe essere uno dei biglietti da visita della nostra città, non solo per il turismo, ma anche per gli stessi cittadini, che soprattutto in estate apprezzano la sua estensione e la sua prossimità al mare. Questo punto strategico, però, necessita di una cura e di una straordinaria attenzione. Perché? Perché i cittadini che frequentano la passeggiata lamentano scherassissima pulizia e riscontrano la pavimentazione non curata. Allora, a mio avviso, Corsitalia dovrebbe essere uno dei biglietti da visita di maggior spicco della città di Genova, anche perché è comunque fronte mare, credo che sia uno dei punti più belli e spettacolari. Mi è stato segnalato da diversi cittadini che la passeggiata presenta poca pulizia. Io credo che, come tutte le passeggiate, così come avevo già evidenziato per quanto riguarda Pegli, così evidenzio anche per Corsitalia, la pulizia di una passeggiata in una zona centrale, e soprattutto nella sesta città d'Italia, è un dovere che compete all'amministrazione, ma compete anche ai cittadini. Perché io dico sempre che una città, quando si sporca, viene sporcata dalle persone. Quindi io credo che ci sia un 50% di responsabilità da una parte e dall'altra. Però invito veramente l'assessore, ha detto, competente per delega al discorso della pulizia, a invitare la dirigenza di Amio a verificare le condizioni della passeggiata di Corsitalia, per renderla assolutamente molto più vivibile e molto più bella. Hai fatto un sopralluogo in prima persona? Allora, avevo fatto un sopralluogo in prima persona, mi sono state anche mandate delle foto da parte di diversi cittadini, quindi ho constatato che, per esempio, specie nei fini di settimana, i cestini vengono svuotati con molta più lentezza, cosa che invece dovrebbe essere quotidiano, perché comunque nei fini di settimana, oltretutto con molti giovani che vengono verso la zona della focce, chiaramente Corsitalia è una tappa d'obbligo. Quindi, ecco perché invito a un maggior riguardo a una delle zone più belle della città. Andrete a verificare a lavori eseguiti? Sì, noi andremo a verificare se effettivamente ci sarà questo sforzo di pulizia e di mantenimento della passeggiata. Grazie. Aveva deciso di andare a scoprire la bellezza di Punta Manara a Sestri Levante, ma ad un certo punto ha perso la strada, si è ritrovato in una zona impervia, stanco e anche assetato, pergiunta con ai piedi un paio di scarpe non proprio adatte all'escursionismo. Per questo motivo, oggi pomeriggio, il soccorso alpino Liguria è dovuto intervenire in aiuto di un turista di 37 anni residente in Camerun. L'uomo è stato raggiunto dalla squadra del soccorso alpino. A seguire sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. È stato proprio Drago, l'elicottero dei pompieri, a hissare sul mezzo, vista la zona impervia, il turista, e a portarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per ulteriori controlli. Si svolgerà lunedì 28 giugno alle ore 15 a Zoagli la cerimonia di apertura del primo tratto della passeggiata a Mare di Levante con conseguente accesso alla Rotonda, al Molo Solari e alla Spiaggia delle Ragazze, ad annunciarlo il sindaco Fabio De Punti. Grazie all'intenso lavoro delle maestranze impiegate e alla coordinazione svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale siamo riusciti a mantenere quanto promesso solo quattro mesi fa al momento dell'apertura del cantiere, dice il primo cittadino. Ha confermato la sua presenza al presidente Giovanni Totti che parteciperà all'evento insieme all'assessore Giacomo Giampedrone e ad altri membri di Regione Liguria. I lavori continueranno sulla parte a Levante per completare l'opera di ricostruzione, conclude il sindaco, entro i tempi definiti. Questa mattina in municipio Arecco sono state consegnate immagini, informazioni derivanti dalla mappatura in 3D di tutto il territorio comunale. La ricognizione è stata effettuata attraverso l'innovativa tecnologia Geolander. L'auto speciale lo scorso inverno ha percorso infatti gli 82 km delle strade cittadine accumulando una grande quantità di informazioni. I rilievi sono stati messi a disposizione dagli uffici comunali e risulteranno utili a ottenere dati precisi per lo sviluppo ambientale, per la pianificazione urbana e per verificare la viabilità. La ricostruzione tridimensionale sarà utile anche per l'ipotesi di ristrutturazione della piscina Antonio Ferro e dell'aereo circostante. Francesco Bruzzo, Presidente della Società Economica, immagino oggi particolarmente lieto di riaprire i palazzi della Società Economica per un evento così importante e finalmente in presenza. Quindi che emozione è quella di oggi? È una bellissima emozione. A mio avviso è già un successo il fatto di riaprire in presenza, lo abbiamo fatto proprio sfruttando al massimo questi decreti. Dio solo sa quanto l'abbiamo sofferta questa partenza perché saranno oltre 6-7 mesi che lottiamo per avere degli spazi con queste regole. Speriamo che questo sia veramente l'inizio di una luce, così come viene anche rappresentata benissimo nel titolo Trame di Luce, che non è per questo ma comunque rende benissimo l'idea. L'altro successo direi che, inquadrato nei 230 anni della Società Economica, è questo collegamento ideale di tutto quello che è stato fatto dalla Società Economica per l'artigianato e per l'arte, anche attraverso la creazione della Scuola d'Arte, nella quale appunto Augusto Altassisto, che tra l'altro è anche nostro socio, ha imparato le prime erudizioni, diciamo, che hanno plasmato la sua innata capacità, poi ha fatto tutta la sua carriera a Urbino, a Carrara, a Torino e poi è rientrata anche come professoressa, applaudita da tanti giovani nella Scuola d'Arte. Quindi un ritorno a casa per Augusto Altassisto e una casa che si apre per riaccogliere il suo pubblico, quindi ricordiamo l'inaugurazione della mostra e fino a quando durerà? Sì, l'inaugurazione è questo sabato e durerà fino al 3 di luglio, con degli orari che speriamo si vadano bene, soprattutto per, diciamo, coloro che nello stesso tempo vogliono anche fruire delle vacanze a Chiavari. Augusto Altassisto, oggi è il giorno della presentazione alla stampa, in attesa dell'inaugurazione vera e propria della mostra antologica Trame di Luce. Immagino sia un'emozione, anche perché è un bel percorso estetico che racconta una vita e un'attività artistica lunga. Sì, abbastanza, perché si comincia da bambini a disegnare per divertimento, poi andando avanti ci si accorge che diventa una cosa seria e quindi da un certo punto in poi si cominciano a conservare delle cose, dei lavori e comincerei proprio a parlare delle incisioni, perché sono state le prime che ho fatto, dal 1970-73 in poi, fino ad arrivare a un certo punto, compreso comunque parallelamente all'insegnamento nelle accademie della tecnica dell'incisione. Poi sono arrivate anche le tempere, poi sono arrivati i pastelli e anche due oli ci sono. E quindi sì, è un percorso nel tempo e della mia vita. Quindi insomma i visitatori di questa mostra avranno la possibilità di seguire questo percorso attraverso la sua filosofia estetica, ma come mai l'incisione? Perché non è così usuale come te. La passione è stata una passione che mi è nata da giovane, che ho seguito nelle scuole soprattutto di Urbino, e che ho sperimentato, che ho portato avanti negli anni, fino ad arrivare al punto di insegnarla agli altri. E le manca un po' l'insegnamento? Sì, molto, perché era un bel rapporto anche, diciamo, gratificante con gli allievi. E ho imparato anche da loro. In uno scambio con ti. Eh sì. Margherita Casaretto, insomma anche lei felice oggi immagino di aprire questo evento in presenza, che però sarà soltanto uno dei tanti eventi che si collocheranno in questi festeggiamenti per i 230 anni dell'economica, e culmineranno anche con un'altra mostra dedicata proprio all'arte e all'artigianato. Sì, siamo veramente contenti. Finalmente, dopo tanto periodo di chiusura, siamo contentissimi di riuscire a fare questa mostra antologica di un artista veramente che prende il cuore. parte dall'incisione, arriva a per ultimo fino ad oli, tempere, eccetera. Comunque noi, come tradizione della società economica, che manterremo anche nel futuro, abbiamo da sempre, sono stati premiati artisti e artigiani locali o del comprensorio, che hanno lavorato a Chiavari o vicino a noi. Infatti, a settembre, riusciremo a fare anche una mostra fra gli avvenimenti della società economica, la festa grande che faremo a settembre, anche una mostra antologica di una trentina di artisti e artigiani che sono stati premiati negli ultimi anni della nostra società. Marina Sport Active Marina Sport Active quest'anno ha voluto dare dei servizi in più alla propria clientela facendo, prima di tutto, un campo estivo che è dal lunedì al venerdì dalle otto e mezza alle dodici e trenta dove si alterneranno due nostri animatori uno più sulla parte sportiva e l'altro invece sulla parte un po' più di animazione e ballo. Altre cose, abbiamo voluto dare anche un servizio di animazione il sabato e domenica dalle sedici alle diciassette e trenta per un po' accontentare un po' le esigenze un po' della nostra clientela. Io mi occupo della parte sportiva del camp l'intraterrò con vari tipi di sport vari tipi di gioco con la palla, senza la palla beach tennis, beach volley e gli darò un po' dritte su come cominciare ogni tipo di attività ci saranno anche delle attività in acqua delle attività come abbiamo detto anche nel campo da beach volley e poi ci sarà la mia collega che farà altri tipi di attività e spero che i bambini si divertiranno un sacco e potranno portare le nuove esperienze a casa e avere anche un bagaglio sportivo più grande. La piscina non è comunque un posto solo per bambini ma è un posto anche per adulti abbiamo tanti lettini a bordo piscina abbiamo una terrazza dove i genitori possono trascorrere il loro tempo in serenità e tranquillità mentre noi ci occupiamo dei loro piccoli. Io mi occupo della parte della danza io sono un'insegnante di danza e per questo motivo mi piace molto ho deciso di intraprendere questo lavoro perché studio pedagogia e niente, quindi mi occuperò di un'animazione più prettamente femminile diciamo. Noi rispettiamo come struttura tutte le normative covid per accedere alla struttura utilizziamo un programma di gestione per le prenotazioni quindi dal punto di vista sia della palestra dei campi da beach volley e della piscina noi sappiamo praticamente chi entra in struttura e utilizziamo quindi all'interno della struttura sempre facciamo utilizzare le mascherine e facciamo mantenere la distanza soprattutto tramite lettini gazebo intorno alla piscina sempre per rispettare le distanze ecco vi aspettiamo tutti per passare un'estate un po' in tranquillità e in relax ecco vi aspettiamo numerosi al campo estivo del Marina Sport Active a a a Grazie a tutti.